Lui! Siete due coglioni, eh? Certo. Mi state pigliando per il culo? Certo. Io mi sono fatto da niente. Io vengo da una famiglia poverissima. Eravamo così poveri, ma così poveri, che a Natale mio padre pigliava il fucile, usciva, sparava due colpi, tornava e diceva che Babbo Natale si era suicidato. Ero così poveri.